Dove è Massimeno? Vieni qua Massimeno! Scusate, scusate, lo fai chiudere. Mi mancava giusto. Scusate. Si può aprire qualcosa di migliore? Così. Scusate. Attenzione, attenzione. Il locomotore, il motore diesel. Se poi, quando sono parcheggiati... Grazie. Grazie a voi, buona giornata. ... 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